In centinaia la cattedrale di Palermo per dare l'ultimo saluto ad Angelo Onorato, l'architetto, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica attorno al collo. Una cattedrale gremita, tanto che i turisti sono stati lasciati fuori per l'occasione e fatti passare da una porta di servizio esterno. Diversi esponenti alla politica, sia di maggioranza che di opposizione, con Totò Cuffaro, segretario dell'ADC, apparso molto provato. L'ho conosciuto anni fa, ci sono state tante occasioni di incontrarci, l'ultima per i suoi 25 anni di matrimonio è stato un bel momento, ha detto padre Sarullo, che ha celebrato la funzione. Parole di conforto per la famiglia, per Francesca e i suoi figli, dico di aggrapparsi alla fede, la sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città.